Siamo qui all'allenamento del Cusca Danese di Cigold con Andrea Loiacono. Ciao Andrea, bentornato a casa. Grazie. Com'è rintornare a tua palestra? Molto bello, ho passato degli anni molto belli qui. È un ambiente in cui mi trovo molto bene, quindi sicuramente tornare in un posto in questo stato bene è bello, fa sempre piacere. In maggio farei anche università qua? No, università faccio online, così riesco bene a coinciliare sia l'università che l'allenamento in maniera buona. Sei riducito di grandi esperienze tra Orlandina, tra Nuova Pala Canestro Messina. Cosa hai conosciuto questi anni tra Messina e Conte Capo Orlando? La mia è bellissima, Capo Orlando è stata una bella esperienza, sia l'ielo umano che l'ielo gestistico che mi ha fatto crescere. Poi comunque l'anno scorso con il coach Petto Manzo è stato un anno buono, con cui si è arrivato in semifinale playoff, e secondo me ha aiutato a crescere anche come assistista. Betto è andato a Piacenza adesso di recente, quindi ciao Betto. E invece appunto a Capo Orlando hai fatto anche una presenza in Serie 2 che non tutti i catanesi possono avvantarla. È stato molto bello, è stata un'esperienza bellissima. Ovviamente non me lo sarei mai aspettato guardando indietro nel tempo, però è stato molto bello. Quest'anno cosa ti aspetta in Serie C Gold? Dovete riscattare la stagione scorsa? Sì, sicuramente siamo molto cari, sono una squadra aggressiva e giovane, quindi metteremo molta energia in campo. Dal punto di vista personale sicuramente voglio, questo è un anno di riscatto, ad essere un buon trampolino di lancio e quindi sicuramente farò del mio meglio a 100%, metterò sempre il 100% in campo. Perfetto, andrei a me con Luca. Grazie Rob. Ciao.